Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosh Riprendiamo con Rise of the Tomb Raider proprio nel punto E qui ci siamo salutati nell'ultima puntata Siamo qui, dobbiamo far passare un barile esplosivo di fuoco greco Dall'altra parte di questa piscina, o comunque di questa costruzione E' un enigma abbastanza semplice ragazzi Adesso vi faccio vedere come sono arrivato fin qui Praticamente bisogna girare quel masso Eh si quel masso ma che cacchio dico Vabbè avrete notato che è domenica mattina Comunque vedete c'è una sorta di bilancia Dobbiamo farlo passare dall'altra parte di quel muro E ragazzi semplicemente dovete legare due barili alla trave E poi tirare la trave Adesso vi faccio vedere come Questi però li faccio esplodere No aspetta Eh raga è mattina Ok fate così ragazzi Lo tirate verso voi E in teoria Per un gioco di leve molto facile e facile Vedete l'abbiamo passata dall'altra parte Era una cavolata E niente vabbè Comunque dai Essendo mattina ci sta Vabbè è una cavolata ragazzi Magari off screen Io ci ho messo un'ora chi lo sa E' sicuramente così Comunque ragazzi dobbiamo buttare giù anche l'ultimo tassello Anche questo ultimo barile di fuoco sacro E no fuoco greco Che è fuoco sacro Vabbè Deve essere un po' vecchio stile raga E' mattina e viva e viva Dobbiamo buttare giù la statua del profeta O quella statua ci aprirà un Insomma Una via Oh cavolo Fuggire non sono preparato Eh corri Fuggiamo dall'archivio ragazzi Non ho sottolineato Abbastanza che nella scorsa puntata Da quel manufatto che abbiamo trovato Quello era l'Atlante credo E quindi dai Ragazzi qui ci sono morti dappertutto Quelli sono i più immortali Eh Infatti dicevo Ma qua ancora non casca niente Vai Lara Croft No Devi saltare Olè Forza ragazzi forza Dobbiamo metterci In salvo Però ragazzi Non possiamo iniziare con le puntate La domenica mattina Eh vai In mezzo al fuoco Ci piace Con tutta questa adrenalina Cioè scusate Forza Forza Lara Forza Tra l'altro questi Più che immortali Mi sembrano incecati Cioè Cioè non ci beccano proprio Ma invece di tirar le brecce Da un chilometro Ma perché non va avvicinati Via Tutti i resciocchi Ragazzi se mi salvo Veramente Mi rifaccio il seno Ovviamente Lara Eh Non dico Ci sono Perché non sarei una bella cosa Anche se ragazzi Farei più views Sicuramente Vai Lara Croft Dobbiamo questi Sono pensieri mattutini Che sinceramente Eh Vai Hanno preso il capo Stiamo andando a fuoco Chiamate Bear Grylls Ragazzi io me ne darei una grattadina Perché Lara Sei veramente Te lo faccio ragazzi Oggi vi devo parlare di cose Che mi avete scritto nei commenti Che giustamente Eh vedete Avevamo trovato l'Atlante Ma non che fosse così chiara come situazione Però vabbè E tra l'altro avete visto Nel sottotitolo Scrive a Via Radio Eh grazie che è Via Radio Comunque non dobbiamo neanche preoccuparci Di stare troppo sott'acqua Perché nella scorsa puntata Abbiamo preso il respiratore Fa un rumore strano Come potete sentire Però Allora ragazzi Ho letto qualche commento E qualcuno di voi Ha giustamente sottolineato una cosa Io non ci ho fatto caso Praticamente Eh la cosa è questa Ma avete detto Mike Ma non ti sembra Che la statua del profeta Quindi le sembianze Della statua del profeta Assomiglino In modo sospetto A quelle di Jacob Di dico la verità ragazzi Ho rivisto il video Non mi sembra Così somigliante Però Certo sarebbe Uno screw job Sarebbe proprio Una pisellata in faccia Avercelo avuto sotto il naso Per tutto sto tempo E E non ce ne siamo accorti Insomma Posto che comunque ragazzi Stiamo dicendo dall'inizio Che Probabilmente O comunque C'è una vaga possibilità Che lo stesso Jacob Sia il profeta Perché Cioè c'ha la figlia Che è più giovane Cioè che lui è più giovane Della figlia Una cosa e un'altra Boh Però ragazzi Un'altra questione Molto interessante E io vorrei sapere Chi è che ha messo Un componente Per la pistola pesante Qua In un luogo sconosciuto Oh Jonah Sei tu Jonah Sì in realtà Non avrei potuto lasciarti da sola Sto arrivando da te Non ti muovere Non ci penso neanche Stai attenta Però ecco regà Mo vedete Jonah Cioè mo Mi ha suonato il campanello Perché cazzo Jonah Che c'entra Jonah No Invece no Jonah Ricordate ragazzi Noi siamo arrivati qui Intanto guardate che bella la valle Noi siamo arrivati qui Grazie a Vi ricordate al prologo Eravamo insieme a Jonah Poi siamo caduti Abbiamo rivissuto Tutto quello che c'era da vivere Insomma in Siria E siamo ritornati qui Ai giorni nostri Quindi cioè io di Jonah L'avevo completamente rimosso Ma non so se so io ragazzi O anche voi Vaffanculo Vabbè insomma ragazzi Non lo so Fatemi sapere voi che ne pensate Io l'avevo completamente rimosso Jonah E poi un'altra cosa Cioè Pensate quanto è merda Che amica del cacchio Lara Che Cioè quello lì Non sai se è vivo Non sai se è morto Insomma c'è stata una valanga Cristina d'Avena Attento ti frega niente No io devo andare alla sorgente Ma porco due Ma fai schifo Fai Vabbè Questo è un po' per chiudere Tutti gli occhi Sui bugi logici Sì Ah sì sì C'ho la missione secondaria Sembra che questa sia finita Proprio così E tutto grazie a te Grazie Ora potremo affrontare meglio gli invasori Non possiamo tralasciare niente Sani sulla torre Avrei una mista completa sulla valle Olè Guerriera scafata Nuova attrezzatura tenuta Completi alternativi Sono disponibili Molti completi diversi Che vengono sbloccati Man mano che avanzi nel gioco E quando completi Terminate missioni Vabbè se le indossiamo Ci abbiamo delle abilità particolari Ok Ragazzi questa era una missione secondaria Che dovevo terminare Non l'ho mai terminato Butto giù quel trone Che è un'altra missione secondaria Sto un po' rasciando Nell'ultimo periodo Devo essere sincero Ma adesso Andiamo da Jacob Quindi insomma Sto storie un po' strane Io raga Eh ok Fammi parlare però Io io niga Sì 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 Ragazzi avete visto Ho cambiato Abiti all'Ara Questa è un'altra secondaria Dobbiamo buttare giù Agui 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 Ah ma è un funerale Ultimo saluto Ok Abbiamo sbloccato un trofeo Vai al funerale Proprio i trofei felici Vabbè insomma ragazzi Dai andiamo avanti Mi sto svegliando piano piano Qui c'è un campo base Vediamo se Lara Comincia a farsi Sui bipi mentali Qualcun altro Stava attaccando la trinitana Sotto la cattedrale Che siano gli immortali Di cui mi aveva parlato Sofia Sì te l'ha detto E se sono loro Che ruolo hanno in tutto questo Uccidere la gente Eh ho visto quanto te ne fregava Eh ho visto quanto te ne fregava Giuna Hai un aspetto orribile Orribile ma felice Avevo ragione Giuna Mio padre aveva ragione La sorgente divina esiste Io vorrei che fossi qui per vederlo Sarebbe orgoglioso Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo Lara Lieta di rivederti Giacobbo ti sta aspettando nell'osservatorio Lieta di rivederti L'hai trovata davvero I fondatori di Kitesh erano Abili artigiani Utilizzavano questo posto per Guardare l'Atlante Ecco Gian Prova con quelle catene Ok Ok Incredibile Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città Come antichi progetti Esatto Tutto si dirama da questo punto Ciò vuol dire che il centro della città È sotto il lago Ma qualcosa non va La cattedrale dove c'era l'Atlante È dal lato sbagliato della mappa Continua a ruotarlo Stop Ecco qui Kitesh Non è sotto il lago È sotto il ghiacciaio La sorgente divina deve essere lì È come attraversiamo tutto quel ghiaccio Aspetta Questo sentiero porta alla città La cattedrale è qui E la torre dall'altra parte Questo significa che l'entrata della città di Kitesh Dove essere qui L'entrata di Kitesh È qui Tu lo sapevi L'entrata di Kitesh Vedetela Lara Graffati a me Lara Non ti preoccupare Siava Scappa No Lara Oh no Davy Non abbiamo molto tempo La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente Ma Devo andare a cercare Jonah Anche a costo di rinunciare alla verità che stai cercando Hai rischiato la vita per venire con me L'ho quasi perso una volta Mai più Allora vai Fai quello che devi Beh non ci credo neanche per un secondo che quello muore dai Secondo me è il profeta Vabbè ragazzi avete visto la sfiga I nemici I cattivoni Arrivano sempre un secondo dopo che noi abbiamo scoperto le cose È uno dei cliché più Grandi Più famosi Dei film ad azione Vabbè Ne paghiamo le conseguenze Anzi ne paga le conseguenze Jonah Che era appena tornato Mamma mia Però Un altro occhio chiuso sul fatto che Quelli lì perché non ci hanno sparato Se Jonah è vivo sarà rinchiuso nel vecchio Gulag sovietico Non avrei mai voluto rimettere piede in quel luogo orribile Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità No non puoi no Visto che c'è A parte vedi Mo te frega Prima che era potenzialmente scomparso Sotto 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 la neve Vabbè Sì sono la vecchia cucina vicino al Gulag Sto per entrare e cercare Jonah Conosco il posto Avevamo nascosto delle armi lì in giorno Durante il primo attacco alla Trinità Potrebbero servire Grazie Sofia Ci vediamo quando esco Ormai con Sofia siamo best friends BFF Best friends forever Vabbè insomma ragazzi Una cassa Con dieci uomini Sulla cassa del morto Frecce da arrampicata a punta larga E una bottiglia di room Ok le conficchiamo nel legno E ci arrampichiamo sopra Fantastico E lì c'è proprio un legno per provarlo Perfetto Vabbè ragazzi Insomma oggi puntata polemica Jerry polemica No perché altro Cioè Ragazzi sapete io Cerco di essere onesto intellettualmente E ok Vai Insomma ci sono cose che bisogna secondo me sottolineare Cioè Sta questione un po' che Da punto di vista della trama Cioè figa la ricerca della cosa Sorgente divina e tutto Però Poteva essere secondo me Strutturata un po' meglio Nel momento in cui ci sono questi buchi logici Secondo me Però ragazzi è un videogioco Non è che bisogna per forza Essere schiavi della logica Alla fine il gameplay È Sendova divertente Non cambia molto rispetto al primo Però Insomma È sempre divertente Quindi io Ve lo consiglio da questo punto di vista Però ovvio che Se ci fosse stata una storia un po' più forte Vabbè però comunque vediamo come finisce Perché magari Magari Diciamo questi primi capitoli Preparano Insomma Dal punto di vista psicologico Lara A diventare la Lara Croft Che abbiamo conosciuto O almeno penso ragazzi Che voi abbiate conosciuto Oddio Eh sbrigiamo se va Sta arrivando la bufera Salta A parte tu hai i salti Antigravitazionali proprio Maledetta forza gravitazionale Come direbbe qualcuno E vabbè Andiamo avanti Insomma ragazzi Magari ci preparano Alla Lara Croft Che conoscevamo Diciamo Non so quanti Più giovani Conoscono Ma Diciamo Era totalmente diversa Da quella che viviamo In questi In questi capitoli Però ci sta ragazzi In reboot Cioè Se volevo lo stesso Tomb Raider Avrei giocato a A quegli vecchi Dove Lara aveva le tette a punta Non aveva il naso E scappava da dinosauri Sostanzialmente Oh un accampamento Poco più No vabbè No vabbè Non ci fermiamo ragazzi Andiamo direttamente verso Insomma il nostro obiettivo Perché fondamentale Tanto Che ci deve raccontare Lara A parte le solite Bagianate Dice sempre le stesse cose Infatti ragazzi Qualcuno Sotto nei commenti La sottolineate Cioè Lara però Dice sempre le stesse Quattro cazzate E effettivamente Siamo qua Che dice Vabbè E ragiona Che tranquillo Transollo Dopo che ci ha visto Morire Sotto una valanga Diciamo Se ne è fatta Una ragione No no Non se ne è fatta Però Si è lanciato Alla nostra ricerca Però Non particolarmente Fruttuosa C'è un corpo a terra Che non mi piace Ah però c'è un borzello Quindi mi piace Riprendiamo ragazzi Eccoci qua Devo trovare un rifugio Dai Lara In mezzo Alla neve In una puntata In mezzo alla sabbia Così Vai il rifugio A un passo A un tiro di schioppo Non avrei mai dovuto Dubitare di te Non ero al tuo fianco Quando avevi bisogno Mi dispiace Dimostrerò a tutti Che hai sempre Avuto ragione Che cercavi la verità Che non erano fabole Sistemerò le cose Papà Te lo prometto Lara È ora Jonah t'aspetta Jonah Non capisco ragazzi Perché Lara si colpevolizza Così tanto Cioè voglio dire Se il padre era infissato Come lei È la colpa Di chi è Comunque ragazzi Non facciamoci troppe domande Anzi sì Allora Possiamo legare qui Intanto Un filo Però perché possiamo salire Anche su Vabbè Andiamo su Cioè ragazzi C'è un'altra Questione che mi ha fatto Particualmente sorridere Che mi avete scritto Tutto nei commenti Visto che ormai ci siamo Ragazzi Parliamo male del gioco No vabbè Oh però ragazzi Aspettate un secondo Noi dobbiamo andare qui su No però Mi sta venendo La netta sensazione Che stiamo lasciando Qualcosa indietro Perché C'era una parete Scalabile Vedete Dunno bra Vabbè Forse la morte Ci attendeva Lì sotto Vediamo un po' Non lo so Boh vabbè Dai ragazzi Andiamo avanti Tanto cioè Se fosse stata pure Una secondaria Le stiamo lasciando indietro Diciamo ragazzi Una cosa che mi ha fatto Particualmente sorridere Era questa Se quelli sono Dei discendenti Bizantini No Quindi diciamo che sono È il popolo Che ha seguito Il profeta In questa valle È rimasta lì Poi vabbè Ovviamente È stato anche scoperto Ci sono stati I sovietici Che sono arrivati E tutto Però giustamente Uno di voi Mi ha fatto Insomma Ha fatto la giusta domanda Ma se Comunque Sono quelli bizantini E parlavano il greco Cioè noi stessi Stiamo imparando il greco Trovando i loro manufatti Come minchia L'hanno imparato L'inglese Cioè perché parlano inglese O comunque parlano La stessa lingua di Lara Eh Ce l'avete pensato Diciamo che Ecco A mo vive Straordinario Straordinario La sorgente divina È nel centro Della città vecchia Sepolta sotto il ghiaccio Quindi dobbiamo andare Informerò la squadra di scavo E preparerò i trasporti I nostri hanno incontrato Gli immortali Negli archivi Non sarà facile Fratello Il sacro cammino È impervio E accidentato Gli uomini sanno A cosa vanno incontro No Ma sono pronti A combattere Morire per la causa È ciò che ci serve Da loro Constantine Ora che siamo vicini Alla fine Abbiamo appena iniziato Temo che la Trinità Ci stia usando Se non ti lasciassero Tenere la sorgente Dovremmo essere No Devi avere fede Non è la Trinità Che mi ha scelto Quando la sorgente sarà mia Non conteranno più nulla Guiderò l'esercito Immortale di Dio E tu Tu vivrai Eh ragazzi Dobbiamo cercare Un sentiero Sveglio è pronto Per l'interrogatorio Eh ma che se bevono Arrivo Aia ragazzi Non vorrei essere Nei panni Di quel cicciottone Di Giona Un Constantine Se lo mangia Oddio Ci mette un bel po' Eh però Vabbè insomma ragazzi Queste sono quelle cose Che uno deve Chiudere occhi Orecchie e naso Proprio Davanti di queste cose Sospendere Oddio Ok non siamo morti Siamo cascati Solo nella melma Eh La realtà Quanto più possibile Insomma Vabbè Però Ripeto Però ragazzi ecco Ci sono Io non me lo so accorto Magari perché Giocando sai Però magari uno che Guarda e attento Impronte 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 di cavallo Intanto ragazzi Ucciderei No Una freccia L'ha trapassato Non ha sentito niente Quel maledetto cervo Sto cervo a primavera Vabbè Insomma ragazzi Ci sta Dai Fa abbastanza L'idea Questa cosa Dentro questo ragazzi Abbiamo preso delle corna Scusate ragazzi Mal di gola Tieni duro Ah però questa ragazzi Potrebbe essere una tecnica Vedete abbiamo attirato Il nostro nemico Lì No L'ho preso in testa Vabbè Vedete ragazzi Le tecniche di Mike Shosha A tirare Il nemico Occhio Arrivano gli elicotteri I nemici fuori Allo scoperto E poi Zata Sparare 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 in testa Sparare in testa Stato ragazzi Avete notato che Da quando abbiamo cambiato Oddio Il giaccone All'ara Siamo perfettamente Mimetizzati Non preoccuparti Si stanno preparando tutti Per andare via Mamma mia Il pro Il pro Il prosciutto Allora Ragazzi Possiamo Volendo possiamo fare Tutto in maniera Asterra Tienila Parca vacca C'hai le mani di ricotta Lara Croft Lara sottiletta Craft Ok Uccidiamo In maniera Becerà Quel tizio Che pare Non ti spostare Per due Colpa alla testa Per due Mi fanno gli scherzetti Che si spostano All'ultimo Potrei tirare Delle frecce E spostarmi lì Avete visto Quello ha un legno Friabile No Oddio Stavi cascando Ok Solo uccisione furtiva Ho lisciato Vabbè ragazzi Ma è domenica mattina Quindi ci sta Ci sta Lo fanno Lo fanno Saltiamo su quel Tronco Cionco Eh Ma siamo qua ragazzi Ci godiamo il panorama Forse lo potevamo utilizzare Come soluzione stealth Ma Cioè A fin fine ragazzi Ci abbiamo talmente tante armi Oddio mio Mi hanno inviato A ripulire l'isola Dopo che la Croft È scappata No ragazzi Lì C'è gente Forse dobbiamo Circo Navigarli Peccato che non abbiamo Le bombe ragazzi Perché se ce l'avessimo Gliele potremmo Gliele avremmo potute Anzi Tirare Eccole Ma che sto dicendo Eccole Molotov Eh No ragazzi Say hello To my little friend Dai Pronti ragazzi Giovanna Giovanna Dark is the way C'è la neve Vi potreste Crogiolare E buttare Sulla neve Però È un'altra punta di gente Voi siete uomini Della trinità La trinità Non capisce E la trinità È cieca Lui non vede Oltre il suo occhio Il suo naso In realtà E vai 150 punti Esperienza Perché abbiamo fatto Fuori tutti In maniera In maniera No scusate In maniera furtiva Vedete ragazzi La serietà La proagine Vaga Però a sto punto Ragazzi Io direi Di Che ci possiamo Cominciare a salutare Anzi no Ok Cediamo questi E poi ci salutiamo Non ci importa Che cosa è successo Adesso andiamo veloci Perché ci dobbiamo salutare Ragazzi Voi comunque Nei commenti Fatemi sapere Che ne pensate Sto facendo più puntate Di Rise of the Tomb Raider Per insomma Terminare questa serie Perché Mi voglio concentrare Anche su altre cose Ragazzi Perché in questi giorni C'ho Non so C'ho un sacco di idee Un sacco di Voglia di fare Anche video un po' diversi Più montati Magari Più editati Quindi Diciamo che lasciano un po' Lasciano un po' Spazio alla creatività E cose magari diverse Piuttosto Solo il gameplay Dovrei riportare FIFA Ragazzi Ma Ultimamente Non è mi sto dirtando Tantissimo E' quello che non muore mai Ah ci ha visto Oh Cristina Ci hanno visto ragazzi Vedete Ho nominato FIFA E' successo tutto ciò Vabbè Ci nasconderemo qui Con il nostro Pompazza No 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 Oh 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 A pompazza Mi ci distriscia Oh Ragazzi Se vi ritroverete soli A cavalcare perverdi Per la terie Con il sole Sulla faccia Oh mio dio Le bombe sui piedi Le bombe sui piedi Alla prossima Ciao ragazzi Ok Passiamo lì sotto E sarà un Ciao Vecchia propaganda sovietica Iscrivete al canale Mike Shosha Che non iscrivete al canale Mike Shosha Non è sovietico Oh vabbè c'è il campo ragazzi Ci salutiamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Vai a sostare